hai finito con la mensola? si voglio vedere scusa ma che hai finito ci sta il delirio e non ci sta nemmeno la mensola si vale ma è quasi finito non ti preoccupare ci vogliono due minuti e quando? e non lo so ma vediamo c'è la formula 1 appena è finita la formula 1 lo metto a posto dai si è da boia alla fine tutto quanto io devo fare sai è un prezzo no vale ma non ti preoccupare te la metto io la mensola che ci vuole due minuti è una cosa da uomini te la metto dopo la formula 1 cretino sempre tutto quanto io devo fare sentiamo che io so distrutta sparecchi tu mi faccio una doccia misteri vai vai grazie azzate 20 e 45 napoli napoli no ma tu devi vedere ci vuole lo scalpello per togliere sto schifo da quanti giorni no amore ma non ti preoccupare ci penso io sto serena lo vedo che sei stanca va a dormire ci penso io mi faccio tardissimo mi fai solo una cortesia comincia a svuotare la lavastoviglie grazie un bacio a dopo ciao oi ma mi fai capire che hai quel casino sulla penisola la lavastoviglie e beh la lasci là e beh tu mi hai detto di svuotarla io te l'ho svuotata vale ma è mai possibile che io quando ti chiedo una cosa ti devo dare le istruzioni passo passo vale ma le parole sono importanti bisogna essere precisi tu mi hai detto di svuotarla io l'ho svuotata altrimenti avvi stato dire per favore mi svuoti la lavastoviglie e riponi gli oggetti nei rispettivi cassetti e o scappali ne io certe volte non capisco se tu sei un deficiente e o un cretino a pensarci bene no tu sei proprio un deficiente e un cretino oi io sto andando al lavoro me la fai la cortesia prima di andare in ufficio togli i vestiti dalla lavatrice si però li togli e li stendi capito si capito? si si mi stridi ciao buona giornata ciao il gas è chiuso finestre chiuse amore ciao no è che stamattina hai preso un po' traviglie e sonno ho perso un dettaglio allora ho capito che devo ritirare i vestiti lavanderia ma quale lavanderia? pronto? pronto? ma che fai la chiusa? io non ho capito perchè sta fermo la strasemba nel bosco grazie no 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 Grazie a tutti